Il Montegiorgio non va oltre lo 0-0 nella sfida salvezza contro il Notaresco con la situazione di classifica che rimane sostanzialmente invariata per le due squadre. Il tecnico di casa Baldassarri, oltre a dover far meno di Santoro e Albanesi, in settimana è costretto a rinunciare anche al portiere Forconesi con Marinaro che, appena tesserato, viene subito schierato titolare mentre De Patre non può contare su Bruno con il nuovo arrivato da Loia mandato in campo nell'undici titolare, direzione affidata a Morello di Tivoli. L'equilibrio dei minuti iniziali non viene spezzato per poco dai padroni di casa già al sesto quando, su punizione alla sinistra, Diop schiaccia bene di testa nel mucchio, sciva, ha un riflesso straordinario e alza sulla traversa. All'undicesimo accese proteste a Bruzzesi per un tocco sospetto in aria dopo il bel cross di Bartoli, Morello lascia proseguire. Il Montegiorgio manovra mentre il Notaresco controlla cercando di colpire in contropiede ma le due difese restano sempre attente a evitare i rischi e così per vedere una nuova occasione bisogna arrivare al venticinquesimo. Cardoni si accentra da destra e dal vertice dell'area calcia col sinistro mandando la sfera sull'esterno della rete. Dall'altra parte, pochi istanti più tardi, Bartoli si muove bene in aria e libera il cross verso Romano che non ci arriva per un soffio. Nonostante il predominio territoriale il Montegiorgio fatica a rendersi pericoloso, complice il campo in condizioni non ottimali e una certa imprecisione dei padroni di casa negli ultimi venti metri con il Notaresco che contiene senza rischiare fino all'intervallo. A ritorno in campo dagli spogliatoi i padroni di casa provano a cambiare marcia tornando ad affacciarsi in avanti con Perpepai dopo un minuto e mezzo ma dopo aver trovato lo spazio per liberare il destro, il tiro e l'attaccante non inquadra lo specchio della porta. Il Notaresco sembra accusare un lieve calo fisico e i padroni di casa provano ad approfittarne andando ancora vicini al vantaggio al quattordicesimo con un lancio ben calibrato di Zancocchia che pesca Cardoni ma il piatto destro in corsa e l'esterno di casa finisce alto sulla traversa. De Patre inserisce forze fresche mentre Valdassarri prova a trovare maggiore incisività con gli uomini della panchina e al ventunesimo a farsi rivedere è il neoacquisto d'Agostino che pochi minuti dopo essere entrato in campo aggancia bene nei pressi dell'area ma poi calcia alto. Il Notaresco sembra accontentarsi del pareggio mentre il Montegiorgio ci prova ancora e a 10 minuti dal termine si vede annullare per fuorigioco la rete di Leonetti che su cross di Morganti pur colpendo sporco aveva infilato la rete di Sciva ma Morello su segnalazione il proprio assistente non convalida. La formazione abruzzese dopo il brivido alza il baricentro per tenere lontani dalla propria area gli avanti di casa che per poco non rivedono i fantasmi della sfida contro il Sinti al Balonga quando su cross da destra a 8 minuti dal novantesimo una carambola in area non favorisce la deviazione di Effendi che per poco non infila la porta di Marinaro terminando alta. Nei minuti restanti i ragazzi di Valdassarri provano con generosità a creare una nuova opportunità ma il Notaresco resta a corto senza arretrare e il punteggio resta inchiodato sullo 0-0 iniziale fino al triplice fischio di Morello. Mister De Patre è uno 0-0 che muove la classifica. Sì assolutamente sì poi è uno scontro diretto qui a Montegiorgio sappiamo che è un campo difficilissimo ostico quindi va benissimo così. Dopo il mercato di dicembre abbiamo trovato continuità e adesso pian pianino ce la giochiamo con tutti e questo è importante c'è fiducia e quindi il campionato è ancora lungo. Sappiamo che c'è da soffrire purtroppo non veniamo da un girone d'andata dove sappiamo per tanti motivi abbiamo avuto tanti problemi sotto tutti i punti di vista siamo partiti in ritardo però questa è la realtà delle cose però adesso ci siamo i ragazzi ci credono e ce la giocheremo fino in fondo. Intanto partiamo da una considerazione che il campo non ha vantaggiato né noi e diciamo né loro sotto certi aspetti è chiaro che loro erano tutti dietro lì nella palla e hanno calciato tantissimi palloni in avanti quindi si è giocato poco a terra non abbiamo cercato di farlo perché abbiamo questo tipo di idea e questo non ci ha aiutato. Ma diciamo che la partita secondo me la svolta è stata sulla parata di sciva che ha fatto all'inizio che ha deviato con la palla su Diop e quindi lì ci siamo un po' innervositi e poi la partita si è incanalata nella gestione un po' come chiedi. E' stata una partita sporca dove tutti questi palloni alti che hanno tirato in avanti e noi rispingevamo la partita è stata non bellissima diciamocelo e si è incanalata così fino alla fine abbiamo cercato di tenere la palla a terra ma onestamente con questo campo era abbastanza difficile e poi voglio rivedere il gol che hanno annullato a Leonetti perché non ho capito se era fuori gioco no non so forse voi l'avete visto meglio di me e poi niente ripeto un risultato che accettiamo perché era una partita difficile probabilmente anche a livello mentale abbiamo già consumato perché la partita in casa con Cinzia al Balonga ci ha dato una mazzata incredibile stiamo ancora pagando qualcosina però abbiamo fatto due risultati utili e andiamo avanti. Ma sai quando ti difendi 5 più 4 come hanno fatto loro non è facile tirare questi palloni davanti il pallone è stato penso 20 minuti su 90 in aria se non di più quindi non è facile questo tipo di atteggiamento non ci ha permesso tante cose sai quando sei statico lì dietro poi devi fare tutti uno contro uno e non è facile perché questa è una categoria poi che non è che ci sono campioni non ci sono i di bala purtroppo noi abbiamo tanti ragazzi davanti abbiamo un 2004 dietro giochiamo con 2005 giochiamo con 6 under anche l'esperienza cioè noi abbiamo io pezzi l'ho avuto l'ho avuto nei professionisti quindi so il valore Marchetti e noi davanti avevamo Tencoran e Cardoni che l'anno scorso uno giocava in eccellenza l'altro nelle giovanili quindi dobbiamo anche dar merito a questi ragazzi che stanno facendo bene stanno facendo grandi sacrifici negli allenamenti e in quello che proponiamo quindi io non direi che abbiamo queste difficoltà le difficoltà abbiamo trovato perché abbiamo trovato una squadra che si è arroccata lì dietro ed è difficile